...Aristocrat, Cavaliere e Trinitario, Teo Di Giamboretti, si venga pronta la testiera 375 a seguire la 339. ...Aristocrat, Cavaliere e Trinitario, Teo Di Giamboretti, si venga perla... Oh 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 Yeah 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 That's a good one That's a good one Yeah Woo 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 di Gian Berattino, Matteo e Croce, Aristocrat 1,69, 6,9 punteggio per questo binomio 138